Quando iniziò a dedicarsi all'arte enoica, sperava che un giorno le sue opere andassero a ruba, contese dai collezionisti e apprezzate dalla critica. Certo, Arianna Greco, artista salentina, nota per i suoi quadri dipinti col vino, non avrebbe mai immaginato che tre tele della sua collezione venissero trafugate durante una cena di gala. Invece è successo in Toscana lo scorso 25 aprile in occasione dell'Orcia Wine Festival. A San Quirico d'Orcia la mostra a donne divine allestita a Palazzo Chigi ha riservato all'artista una spiacevole sorpresa. Mentre i commensali erano a tavola, nella sala adiacente qualcuno si impossessava di tre dei 25 dipinti in esposizione. Accortasi del furto, Arianna Greco decideva di annullare la mostra allertando i carabinieri d'intesa con le autorità locali. Abbiamo cercato nel palazzo, non c'era praticamente nulla. Abbiamo sporto denuncia, hanno rilevato i filmati. Il giorno dopo mi hanno fatto ritrovare le opere presso gli uffici comunali, praticamente in un sacchetto nero, le tre opere sparite. Non si sa chi abbia architettato il furto e per quale motivo abbia fatto ritrovare le tele la mattina seguente. Arianna ci scherza su e già pensa ai prossimi impegni, a cominciare dal tour in Russia dove le sue opere impreziosiranno per tutto il mese di giugno le gallerie d'arte di Mosca e San Pietroburgo. Che cosa si sente di dire agli autori di questo furto? Grazie, ottima scelta.